Presidente Silvio Brocco, siamo pronti per ripartire una nuova avventura con una squadra che è quasi completamente rivoluzionata, è un obiettivo importante da centrare. L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene, penso che ci siano i presupposti, sono ragazzi che vengono dalla categoria che conosciamo, sono bravi sicuramente, non deluderanno di certo e quindi ci vorremmo di fare un bel campionato. I lavori al Mariani Pavone per l'impianto del sintetico, insomma c'è tutto un movimento che si muove intorno al pineto calcio proprio per far crescere a 360 gradi il calcio a pineto. Questo mi piace moltissimo perché è uno spazio che io dedico ai ragazzini della scuola calcio e avranno modo quindi di divertirsi, di giocare, soprattutto quando ci sono gli istruttori loro e quindi i bambini che vengono avranno veramente uno spazio bello, igienico, pulito e quindi si divertiranno. Di questo sono felicissimo. Presidente, oggi sono uscite un po' le prime indiscrezioni sui gironi, forse molto probabilmente si dice che le abruzzesi saranno divise anche quest'anno e che forse solo le due terramane resteranno nel girone F. Penso anch'io perché questo è un girone geograficamente già definito. Siamo sulla fascia costiera e quindi logisticamente è questo. Ci saranno sicuramente le otto marchigiane, le quattro romagnole, noi abruzzesi quattro perché sono sicuro che il Francavilla verrà ripescato insieme a Campobasso e Dagnone e quindi le 18 sono già fatte. Poi la Lega deciderà. Due parole su questo caso Sanzovini, viene a Pineto, non viene a Pineto, Brocco lo vuole. Non lo sappiamo, no, no, non so nulla, sinceramente si tratta di un professionista se ho ciforato questo però sinceramente io ancora non prendiamo nessuna decisione. Non è vero che hai fatto nessuna proposta? Assolutamente no.